Perché sono salito quassù? Chi indovina? Per esibizionismo. No, grazie per la simpatia. Sono salito quassù per ricordare a me stesso che bisogna sempre guardare le cose da un altro punto di vista. E il mondo appare diverso da quassù. Non ci credete? Venite a vedere. Professor, che ci fai sulla re? Che ci faccio sulla cattedra? Quelle levità a Robbie Williams.